Abbiamo il settembre più bello del nostro paese dal punto di vista dell'offerta culturale, un quadro di eventi e di proposte culturali secondo me di altissimo livello e sottolineeranno i grandi valori culturali, il grande patrimonio artistico, la grande creatività di cui Napoli dispone. Quindi in questo mese di settembre certamente Napoli sarà l'attenzione del paese, l'attenzione internazionale e tutti coloro che nel mondo si battono per la libertà, la pace, la solidarietà, i diritti umani potranno trovare nel filo conduttore che lega tutti questi eventi in qualche modo riferimenti significativi. L'estate a Napoli prosegue a settembre con altri appuntamenti che arricchiscono l'offerta per cittadini e turisti. Il programma dell'assessorato alla cultura e al turismo consultabile sul portale del Comune prevede tra gli altri gli spettacoli al Maschio Angioino e a San Domenico, il premio Pimentel Fonseca, il Festival del giornalismo civile e la rassegna di cinema e psicanalisi Alpanna, il Festival Spina Corona con le passeggiate musicali napoletane di Michele Campanella, la giostra dei sedili e le feste popolari e religiose, da San Gennaro a Sant'Alfonso Maria dei Liguori alla Madonna del Rosario fino a quella di Piedigrotta. La festa di Piedigrotta è da alcuni anni che riceve da noi attenzione, un momento della memoria e anche un momento fortemente segnato dalla religiosità e dalla radici, ma soprattutto il momento chiave è la bellissima novela La Madonna che vede come protagonista da un certo numero di anni Benedetto Casillo. La serenata alla Madonna che è nata 35 anni fa e che cosa è serenata alla Madonna? È un'emozione che diventa preghiera con la partecipazione di tanti artisti napoletani che da 35 anni regalano la loro arte alla Madonna. E che facciamo in questa serenata? Noi ricordiamo un po' alcuni scenni storici dei personaggi, facciamo rivedere la sfilata dei pescatori, che i pescatori sono devotissimi alla Madonna di Piedigrotta e sono loro che ogni 50 anni portano sulle spalle la statua della Madonna quando esce in solenne processione. Facciamo sfilare un mantello importantissimo della Madonna che rivestiva la statua fino al 1966 e che da allora è conservata invece solamente nella chiesa. c'è il racconto della leggenda della scarpetta che è una delle leggende forse più belle e più romantiche della cultura napoletana ed è un lumicino, l'ultimo lumicino di quella che fu la grande festa di Piedigrotta che noi consegniamo al tempo, al nostro quartiere e a chi volesse venire ad accendere vicino al nostro lumicino le sue candele per riparlare in qualche modo, in qualche maniera della festa di Piedigrotta, ogni giorno scopriamo che tante, troppe persone non sanno nemmeno che cosa sia stata la grande festa di Piedigrotta. Vorrei sottolineare che anche a settembre abbiamo un pienone di turisti e abbiamo prenotazioni anche per tutto il mese di ottobre, quindi ormai l'obiettivo di fare di Napoli una delle grandi capitali del turismo europeo e anche di superare i limiti stagionali delle presenze turistiche possiamo ormai ritenerlo conseguito.